La pioggia è perversata tantissimo in questi ultimi tempi su Fano, su tutto il territorio, parte è stato allagato, ma ne hanno risentito anche in modo particolare le scuole. Su cosa si sta intervenendo? Quali sono le emergenze attuali? Oggi finalmente abbiamo la giudicazione della ditta che realizzerà l'impermeabilizzazione di due scuole molto attenzionate che sono la Scatola Magica di Rosciano e la Montesi di Sant'Orso. Sono due scuole che avevamo già visitato durante il periodo estivo e per il quale avevamo già stanziato dei fondi. Abbiamo fatto una ricerca tecnologica per abbandonare i problemi che vengono generati dall'utilizzo delle guaine standard, quelle che vediamo portare sui tetti a rotoli per intenderci. Utilizzeremo delle resine composite che ci permetteranno di fare tre cose fondamentali. Ottimizzazione dei costi perché pensate che con i fondi che noi utilizziamo per due scuole, generalmente prima se ne poteva impermeabilizzare solo una, grande durata nel tempo dell'impermeabilizzazione e soprattutto velocità di esecuzione. Perché partendo da qui a qualche giorno, dieci giorni al massimo giusto per far partire il cantiere, entro dicembre avremo tutti e due i lavori completati. Quindi un grande lavoro di attenzione alle scuole è solo l'inizio di questo processo, però è anche una risposta importante a tutte le mamme, tutti i papà e anche a tutte le maestre di queste scuole che ci chiedevano veramente da tempo di intervenire. La situazione era veramente grave all'interno delle scuole, lei ha fatto dei sopralluoghi nelle scuole stesse? Sì, lì abbiamo trovato una situazione veramente critica. Pioveva all'interno, c'erano secchi d'acqua un po' ovunque, stracci. In alcuni casi i ragazzini, penso alla scatola magica, i nostri bambini dovevano essere segregati solo in alcune aule dove per fortuna non pioveva all'interno. Quindi il problema era veramente generalizzato. La stessa cosa valeva per la scuola di Sant'Orso, la Montesi, che anche lì necessitava veramente di un intervento importante. L'abbiamo detto all'inizio del mandato, continueremo con questa fase di manutenzione delle scuole perché i nostri ragazzi devono avere le migliori strutture possibili. Prima non è stato fatto, noi invece vogliamo investire sulle scuole per il benessere delle future generazioni.